a posto? Vado? Allora io mi chiamo Raffaele Tortola della Asernet e vi parlerò del facciamo e-commerce o no? Risponderemo a questa domanda. Dopodiché faremo un esempio concreto con Pierluigi Masciulli della Medical Sud che ci racconterà la sua esperienza di vita vissuta, quindi dall'altra parte della barricata noi raccontiamo un po' come consulenti, lui un po' come imprenditore e poi c'è Antonio De Michele ecco qui, che è anche fornito gentilmente, che ci racconterà di social media marketing, di storytelling comunica creative design company. Perfetto. Allora iniziamo un attimino. Bene, immaginiamo che abbiamo questo bel malloppo di soldi, dobbiamo deciderne cosa farne, ok? Ce l'abbiamo, partiamo da che ce l'abbiamo che abbiamo questi soldi, dobbiamo decidere cosa farne. Qualcuno ci dice, ah però online, diciamo, possiamo vendere su internet, recupero una fetta del mio fatturato da qui, da questo nuovo canale, lo faccio o non lo faccio? Prendo questi soldi e li metto su un progetto e-commerce oppure compro un nuovo macchinario? Cerchiamo di dare una risposta per capire se siamo nelle condizioni e ci sono i prerequisiti idonei per fare questa scelta o puntare su altro. Cerchiamo di non spregare questi benedetti, queste benedette banconote. Allora, molto spesso alcuni di voi ancora non si sono buttati in questo settore, altri stanno pensando di farlo, ma il timore, a volte anche non timore, ma anche una scottatura presa, è proprio quella di essere delusi da un progetto che poi non ha preso piede, perché magari abbiamo fatto degli errori a monte che non ci hanno condotto ad avere successo su un progetto e-commerce. Il progetto e-commerce lo vediamo in maniera molto lato, non mi riferisco solo a quello che si vende online con la carta di credito, anche il B2B, anche la creazione di nuovo contatto che mi porta a una vendita che avviene offline, per noi è sempre e-commerce, indipendentemente da come si chiude l'affare, l'importante è l'origine del contatto. Qualche punto, alcuni andremo più veloce, altri invece andremo un po' più lenti, perché dobbiamo focalizzarli meglio. Se alcune cose le do per scontate, alzate la mano e mi dite, no questa cosa non mi è molto chiara, la affrontiamola un po' meglio. Innanzitutto, siamo d'accordo che questa eguaglianza non regge? Cioè non scambiamo il mezzo per il fine. Allora, fare e-commerce non vuol dire fare un sito web, non vuol dire dotarsi di una piattaforma, quello è solamente un pezzo, è forse neanche il più importante e comunque non il primo da affrontare. Incominciamo da altre domande. Alcuni ci chiedono, ma in che linguaggio è fatto il portale e-commerce? Noi da anni sviluppiamo portali e-commerce, facciamo marketing digitale e quindi tutti i giorni siamo seduti alle schivanie con gli imprenditori. e invece io non rispondo a quella domanda e faccio altre domande, che sono queste. Chi sono i nostri clienti? Come comunichiamo con loro? Che tipo di mercato andiamo a competere? È una domanda consapevole o è ancora una domanda da creare? Per cui stiamo parlando di un prodotto oppure di una personalizzazione del prodotto che crea un mercato che non c'è? Sono tutte domande importanti che se non ci poniamo a monte probabilmente partiamo a fare i spenti della notte e se partiamo a fare i spenti della notte, la maggior parte dei casi ci facciamo male. Tanti sono rimasti delusi dal fatto che avendo sviluppato il portale e-commerce poi non è successo niente. Il peccato è che molte volte tutto il budget che era stato pensato era stato dedicato alla progettazione della piattaforma, del sito e-commerce. Noi siamo arrivati a una conclusione. Per la piattaforma 10-20% può essere il budget a destinare, il resto va conservato, va destinato ad altro che vedremo ha poco a che fare con la tecnologia e molto più con il mercato. Chi ha fallito non sono in pochi, sono la maggior parte. Sono pochi quelli che riescono a stare sul mercato dopo il primo anno di attività. E questo succede perché viene a mancare tutto questo. Ma che c'entra l'analisi di flusso dei dati con l'e-commerce? L'e-commerce siccome è una piattaforma ma è un'impresa, come ogni impresa deve prendere piede da quello che è un business plan, anche per l'e-commerce vale la stessa regola. Ricerca di mercato, capire se esiste quel cliente che vogliamo prendere, definire gli obiettivi di fatturato, perché se non definiamo bene quale è il fatturato che vogliamo raccogliere, è difficile anche capire se l'investimento in promozione digitale che vogliamo fare è adeguato o meno. Non posso pensare di raggiungere un milione di euro di fatturato e avere mille euro di budget. Devono essere coerenti e congruenti le due cose. E poi devo essere cosciente di un'altra cosa, che, non so chi ha mai visto questo grafico, questo è un grafico di schiavo di economia che è deviato come me, più volte ci ha sbattuto sopra, questi sono i costi e questi sono i ricavi. Che succede? Che all'inizio i costi superano i ricavi. Si chiamano investimenti per questo motivo. Poi che succede? Che a un certo punto, nel punto detto di pareggio, succede il contrario, perché nel frattempo incominciamo a farci conoscere, ci conoscono, ci apprezzano, e quindi i ricavi diventano maggiori dei profitti. Ma questo non succede quasi mai al primo anno, al secondo magari, al terzo sì. Quindi il primo anno mettiamo soldi, il secondo ci ripaghiamo le spese, il terzo anno incominciamo a fare margine. È sempre vero? No, ovviamente dipende dai settori. Però, mediamente, ragionate in questi termini. Non è un investimento a breve termine l'e-commerce. Non è che vi sto disincentivando e sbogliando a fare questo tipo di investimento, ma dobbiamo essere consapevoli di quello che andiamo a fare. Anche perché poi, se non funziona, finisce tutto subito. Quando definiamo gli obiettivi di fatturato, stiamo molto attenti alla marginalità sul prodotto. Io, una delle domande che faccio nella nostra attività, è se soprattutto sei un commerciante, cioè nel senso che non produci, che marginalità hai sul prodotto media? Ci abbiamo fatto un conto così, veramente a quattro mani, e se è inferiore al 30% la marginalità media sul prodotto, probabilmente siamo a rischio. Perché? Perché buona parte di quel budget ci verrà assorbito dal marketing e dalla pubblicità che dobbiamo farci sopra. Rischiamo di fare anche delle vendite, ma di non restare nulla in mano, perché il margine viene tutto consumato. Guarda, dove faccio inter... Cioè, sto parlando... Vedi un po' perplessi. Ok? Ah, è per quello allora. Ok, perfetto. Fino a quanto è concentrazione è bene. Appena vedo una papura calata, allora vuol dire che... Ma perché io devo avere un margine alto, quindi maggiore del 30%, voi tutti mi insegnerete che devo dare qualcosa di diverso, unico, distintivo. Molto spesso io racconto a... Tengo sotto l'occhio anche l'orologio, perché... E... Quali sono le tre cose distintive per cui devono scegliere te? E loro vi dicono tutti esperienza, competenza... E io poi dico... Conoscete poi il gioco tabù? Il gioco tabù dici le parole che non puoi dire. E lui dico esperienza, competenza, perché le diamo per scontate. Cioè, se non avessimo quelle non staremmo neanche su un mercato. Che ci sta qui in mezzo? E' lì che fondamentalmente andiamo a trovare il nostro mercato. E quindi chiedere il prezzo adeguato al nostro obiettivo di guadagno. Ci siamo resi conto anche che un prodotto non diversificato, cioè un prodotto troppo facilmente trovabile su un mercato, è difficile che abbia successo su internet. E' meglio ragione su una nicchia. Nicchia vuol dire un prodotto che non è che per forza diciamo naturalmente diverso. Ma a volte diverso per come viene presentato. Quindi l'unicità non è detto che sia nel prodotto. Ma anche nel processo in cui viene prodotto o viene venduto o viene presentato. Lo stesso prodotto presentato in maniera diversa può diventare unico e distintivo. E' lì che dobbiamo essere bravi. Questa è un'altra cosa molto brutta. Si chiama Canvas che però è molto utile. E' un esercizio da fare all'inizio e a fine anno. per capire un attimino come mi sto muovendo. Questo è una specie di cruscotto che mi dice come mi sto muovendo. Per esempio qual è la mia proposta di valore? Quali sono i miei clienti? Quali sono i canali digitali che sto usando? I ricavi? I costi? Questo è uno strumento che io ho provato proprio sulla nostra pelle e lo proponiamo spesso quando incominciamo a mettere mano a un progetto di e-commerce perché da qui subito capiamo procediamo o non procediamo? Quando più difficile diventa la compilazione di questo modulo tanto più siamo lontani dal fatto che possa essere un investimento. Allora la nostra eticità ci dice fermati un attimo forse non siamo ancora al momento giusto per partire. Del fatto che non è un investimento a breve termine penso che ne abbiamo parlato Andrea anche veloce su questo Cos'è il marketing? Un costo o un investimento? È un investimento è una domanda ovviamente retorica però è giusto per perché il marketing non è un costo o se proprio lo vogliamo chiamare il costo è un costo variabile cioè è un investimento che va parametrizzato rispetto agli obiettivi che voglio raggiungere sempre il discorso di prima non posso pensare di arrivare in tre ore a Milano con una macchinetta devo prendere l'oggetto supersonico cioè tutto deve essere coerente non abbiamo e certamente l'e-commerce non è la bacchetta magica ma c'è una cosa molto bella che rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali il digitale ha una caratteristica che è la misurabilità per cui noi riusciamo attraverso gli strumenti digitale a avere alcuni parametri che ci consentono di capire ogni singolo euro che noi andiamo a spendere in strumenti digitali di promozione Google Facebook newsletter e tanti altri strumenti che esistono sia diretti in diretti di marketing sto dando per scontato in questo momento che voi sappiate che esistono questi strumenti se non lo è mi alzate la mano e mi dite guarda oppure anche magari alla fine per cui tasso di conversione cioè quante persone entrano nel mio portale e-commerce e quanto comprano oggi mediamente partiamo dallo 0,50 all'1% cioè ogni 100 persone che entrano mezza o una compra se io il crocerò lo 0,01 0,005 c'è qualche problema poi è chiaro che se il prodotto lo faccio solo io quel tasso di conversione non sarà l'1 ma sarà 10 perché lo faccio solo io però devo sapere come mi trovo come anche il valore medio dell'ordine perché siccome ogni singolo ogni singola visita che mi arriva io la pago e la pago anche bene capite bene che se lo scontrino medio che compra è alto ammortizzo prima i costi del budget ok quindi cerco di fare le vendite complementari il cross selling l'up selling c'è tutto quello che mi serve per dire hai comprato le tre bottiglie di Nobiles sai che puoi comprare anche le tre castrum al prezzo di XE per cui passi a uno scontrino molto più alto ce ne sono tantissimi gli abbandoni dei carrelli mi fa capire anche quanta gente sta prendendo il mio sito come preventivatore e quindi quando sto vendendo per gli altri e non per me è un altro problema grosso e così come tanti altri tassi allora riteniamo un altro indispensabile un altro indispensabile requisito quello di formarsi non possiamo delegare lo sviluppo di un pezzo del business della nostra azienda a consulenti esterni dobbiamo farlo con loro ma non possono farlo loro per noi quindi un minimo di formazione è una scelta adeguata a chi delegare parti operative e non strategiche del nostro business diventa fondamentale la cosiddetta consapevolezza la consapevolezza passa anche dal fatto di studiare di cominciare a capire ad esempio di quello che parliamo oggi di cosa stiamo parlando perché altrimenti non riuscite a capire se la persona di di fronte è veramente una persona a competente ma soprattutto se può essere la persona giusta che vi può aiutare o le persone giuste per raggiungere i vostri obiettivi questi sono due c'è il consulente dell'imprenditore che si danno la mano che devono fare una cosa insieme io sarei molto attento a questo nel senso no no ogni riferimento è puramente casual però come dire è chiaro ci deve essere una squadra non può essere un lavoro a ruba mazzetto dobbiamo lavorare insieme e devi trovare delle persone che credano anche nelle potenziali del tuo business altrimenti come dire partiamo già col piede sbagliato anche perché gente come noi ne ha viste tanti di e-commerce cambierà l'oggetto ma le dinamiche le abbiamo capite se uno appena inizia è difficile ci arriva ma ci arriva sbagliando di più e con più tempo certo ha un costo però ti riduce gli errori e il tempo di raggiungimento del pareggio è l'unica slide commerciale attenzione alla scalabilità perché se io già parto con un obiettivo piccolo e mi strutturo per raggiungere un obiettivo piccolo l'obiettivo piccolo raggiungerò se invece penso in grande questo quando si fanno ad esempio si creano i marchi non bisogna pensare a un marchio al mio territorio a quello che oggi mi conoscono devo pensare a quel marchio a 13 anni 20 anni che diventerà e devo pensarla in grande così devo pensare in grande anche ma io devo collegare il mio portale e-commerce gestionale ovviamente sì perché altrimenti a due ordini ci arrivi a cinque no ma quando cominci ad essere 20 ordini al giorno di natura diversa e devi fare tutto il ciclo di fatturazione e spedizione non ce la farai mai a mano o meglio ce la farai ma ti costrerà di più perché devi metterci tre persone per fare un'operazione che con un processo automatizzato faresti in mezz'ora chi fa e-commerce questa cosa la sa benissimo non so se per Luigi toccherà anche sto punto ce lo potrà eventualmente dire ma i nostri clienti hanno puntualmente questo problema per cui pensate sempre a far diventare il portale e-commerce un'interfaccia esterna del vostro sistema gestionale cioè del vostro sistema pur che gestisce i dati e la vendita ultima cosa spesso e volentieri ho sentito dire l'online contro l'offline quasi che i due strumenti fossero in competizione questo lo fanno soprattutto alcuni negozianti come concetto al dettaglio noi riteniamo invece che la vendita sia solo una cambia solo il canale e non è detto che i due canali debbano essere sinergici anzi sta succedendo sempre di più e anche grossi marchi si stanno muovendo in questo orizzonte anche perché per quanto possa crescere a due cifre l'e-commerce in Italia la stramaggioranza delle persone comprano ancora nei punti vendita e questo in dubbio lo sarà ancora per tanti anni allora sfruttiamo il canale digitale non solo per vendere direttamente online ma per farlo diventare un'origine di un flusso in aumento di persone che entrano fisicamente nel negozio acquisiti però grazie al digitale sempre vendita digitale si concretizza da me ma l'ho acchiappato online la famosa multicanalità e il geomarketing che poi con i nuovi sistemi legati al mobile e legati ai social network è veramente una nuova frontiera su cui stiamo lavorando e su cui pensiamo ci sia grosso margine ancora di profitto perché soprattutto per alcuni settori come l'entertainment come la fornitura di servizi alle persone riteniamo che possa essere veramente un modo per acquisire tanta clientela anche a basso investimento di diciamo di promozione su questo vado molto veloce vado attendo alla fine anche perché voglio lasciare spazio anche agli altri due amici per dare un'idea un po' generale come vedete non ho parlato di tecnicismi o di strumenti ma ho parlato più di strategia operativa perché noi abbiamo deciso di fare questo tipo di lavoro la tecnica la trovate anche a buon mercato bisogna trovare però delle idee chiare in mente su come attuare la strategia di vendita online e vado direttamente a questo se volete poi magari cerco anche di fare di avere una copia di questo qui per essere un po' più esaustivi perché il tempo è tiranno è molto tiranno allora vi ricordate quando vi parlavo lo dicevo stamattina a un paio di persone a Lucio non so a chi altro sulla prima vendita online non c'è mai un guadagno forse neanche sulla seconda il vero guadagno c'è nel ciclo di vita del cliente quindi nel momento in cui il cliente diventa fidelizzato e mi ricompra e diventa il mio ambasciatore perché lo consiglia un altro da quel momento il margine sul prodotto diventa interessante e lì incomincio a fare veramente a creare una piccola fetta di fatturato aggiuntiva a quella tradizionale che poi nel tempo può diventare anche consistente se riesco vi faccio vedere questa brutta cosa vi giuro vi faccio vedere com'è il mouse come ci fa in questi casi ah andata no poi ve lo faccio vedere com'è fatto sembra che ci sia Excel su questo computer se no ve lo racconto cominci a raccontare allora abbiamo fatto un esperimento abbiamo messo su un Excel banale tutte le voci ma tutte perché uno pensa vabbè metto il sito faccio payback click pago il mio consulente e questi sono i costi i ricavi non c'è office ovviamente quindi figurati vabbè non ve lo faccio vedere ve lo racconto abbiamo visto che lavorando sugli aspettative di fatturato riusciamo a fare un percorso inverso se io voglio fare 100 mila euro di fatturato in un anno quante visite devo avere rispetto al tasso tra visita e acquisto per fare quelle visite no ma il problema è che noi diciamo dall'assai passiamo a 100 mila ho bisogno di mille visite ma per fare mille visite con i calcoli dei tassi che vi ho fatto vedere che tipo di opera di visibilità devo avere deve essere visto il tuo link da 100 mila facendo a ritroso tutto il percorso voi riuscite a sapere giornalmente settimanalmente menzimmente nell'anno non solo quando fatturato dovete fare ma anche cosa vi serve per fare quel fatturato e che lì è l'area grigia per cui se voi dovete fare 500 visite al giorno per avere quel fatturato e il primo mese ne fate 100 il secondo 100 e il terzo 100 capite che state a un quinto dell'obiettivo che vi siete posti a quel punto dovete rimirare la questione e capire perché non ce la farete mai raggiungere quel budget dovete quindi lavorare investendoli più sui canali scegliendo di investire diversamente lo stesso importo tra canali diversi fino a trovare il canale che vi converte di più abbiamo finito no perché una volta che poi abbiamo le visite le visite devono essere convertite in ordini e vedere ma di questa massa di visite quanti mi convertono quanti no quelli che mi convertono che mi convertono tutto il suo stesso prodotto ma il suo prodotto quanta marginalità ho scientificamente l'e-commerce e anche questo non è solamente avere un prodotto valido saperlo comunicare bene ma anche tenere sotto controllo i numeri è brutto concludere così perché io non sono una persona che mi ha dei numeri ma di fatto è quello che succede nella realtà e questo è una e sta a monte prima di iniziare il progetto adesso invece vediamo un esempio di progetto già fatto e anche con Pierluigi e con Antonio anche alcune fasi invece che stanno nella fase sia iniziale che di sviluppo del progetto alcune componenti per avere un progetto di e-commerce di successo sì sì uno dei vantaggi uno dei vantaggi che potrebbe avere l'e-commerce visto che arrivi direttamente all'utente finale sostanzialmente hai una marginalità maggiore cosa che tu diversamente se passi attraverso diversi canali distributivi e diverse situazioni evidentemente la tua marginità è più bassa quindi da questo punto di vista per incoraggiare un po' è un amico quindi perché non chiude come l'ha detto nessuno fa e-commerce quindi ha detto troppo realistico secondo me c'è un'opportunità una vera opportunità è quella che riesce ad avere una marginalità maggior sul prodotto che vabbè parte e te la consumi con quello che hai detto tu non era un disincentivarvi era farvi avere una consapevolezza per cui nel momento in cui andate a fare delle richieste ai consulenti li fate con conscienza cioè non chiedete la luna perché è troppo facile vendervi la luna e poi dopo un anno litighiamo perché ti aspettavi una cosa che non è successa è troppo facile vero Pierluigi parla il microfono che è stato il microfono allora io concordo su tutto quello che ha detto Raffaele sono già 4-5 edizioni che lo seguo Raffaele per me cioè per noi dovrebbe essere un punto di riferimento cioè per tutti quanti importante perché senza di persone come lui che teoricamente ci spiegano con tante teorie è vero che siamo stanchi diciamo magari io avendo un'azienda di famiglia essendo cresciuto con la mentalità antica di mio papà che poi comunque era una persona importante di valore di spessore e mi ha insegnato la vecchia scuola perché i nostri figli utilizzeranno solo il telefonino ora noi abbiamo utilizzato le calcolatrici e prima anche ancora prima io vi ricordo che facevamo tutto a mano le tabelline allora la nuova generazione utilizzerà solo gli strumenti nuovi e questi strumenti nuovi possono essere gestiti solamente da persone che sanno come Raffaele e quindi tutti quanti noi dovremmo fare le statue a persone come Raffaele che fanno questo di professione ho sempre detto che lui ha doppia personalità scout quindi la natura quindi giusto Raffaele e poi come professione no però è importante che la teoria c'è non si può sapere tutto oggi allora la mia esperienza è questa ve lo dico in maniera pratica senza addormentare tutti con noi abbiamo un telefonino giusto cosa facciamo domenico col telefonino email telefonate c'è giusto whatsapp quindi lo strumento al primo posto dove noi che lo utilizziamo secondo me è il telefono al secondo per risparmiare l'email la comunicazione email e poi al terzo porto al posto ci metto whatsapp diciamo i social network quindi mio papà non aveva questi strumenti noi ce li abbiamo e dobbiamo imparare utilizzare questi strumenti perché la prima cosa che ho fatto 20 anni fa quando studiavo ingegneria meccanica a Foggia e quando poi ho visto che mi sono appassionato a questo lavoro era fare l'interprete di quello che mio papà diceva metteva sul mercato mio papà aveva andato 40 anni fa il primo accappatoio monouso io dopo 40 anni lo sto vendendo alla distribuzione organizzata ok però ho già capito che non si può vendere io ero sempre considerato il visionario però in maniera negativa non come quella di Steve Jobs quello che diceva tu vai viaggiando perché viaggiavo con mio papà e lo accompagnavo e viaggiavo in Inghilterra da solo per studiare e poi i miei amici dicono ma tu viaggi sempre che è bello il tuo lavoro praticamente oppure magari intendevano quando andavo a Budapest a Praga o Night Club queste cose qui però non sapevano quando uno viaggia un imprenditore tutti gli imprenditori che viaggiamo abbiamo tutte le sofferenze quindi dobbiamo essere consapevoli di questi strumenti che ci avvicinano io uso un programma io ora vi dico col telefonino cosa faccio il mio programma principale ora ho il tablet potrei collegarlo però non voglio dilungarmi a primo posto c'è un programma che si chiama Outsuite lo conoscete? chi lo conosce? 1, 2, 3 e 4 e 5 e 5 chi produce chi produce conosce chi che produce o vende commercializza conosce questo programma nessuno quindi ritenetevi ignoranti e soprattutto e soprattutto io lo dico due quando vengono i rappresentanti 25 rappresentanti in azienda l'ultima riunione cosa vi sentite? utenti o utonti cosa siete? utenti o utonti Whatsapp è bello a Natale ci scambiamo i messaggi di auguri no? voi lo sapete che Whatsapp da gennaio inizia la pubblicità o da febbraio non so quando quindi come Facebook quindi immaginate tutti quanti noi abbiamo Whatsapp qua penso che chi è che non c'è Whatsapp? tutti quanti ce l'abbiamo no? adesso che la mi sta chiamata non posso rispondere ora ora quindi per mare la favola HotSuite è un programma che ci permette di programmare io lo faccio stamattina alle otte e mezza mentre giocavo con mio figlio che lo salutavo che andava a scuola dove mi sono fermato due minuti ho preso un post l'ho programmato su HotSuite su tutti i sette social network quindi da LinkedIn a Facebook a Instagram tutto in due minuti senza costi senza spese mi costa 130 euro all'anno l'abbonamento si è mio l'altro tablet però è silenzioso magari dopo si annoiano poi un altro programma che diciamo un altro programma che vi mi sento di consigliarvi è GoToMeeting GoToMeeting per esempio che non so chi lo conosce io faccio riunione mi costa però tu sei del settore non sei produttore non sei commerciante giusto? commerciale quindi però io dal mio punto di vista do gli consigli per chi deve vendere perché Raffaele ha fatto la teoria poi io voglio entrare in pratica per farvi non farvi addormentare no perché altrimenti ci addormentiamo no perché tu hai avuto lo spazio primario lo spazio primario se no poi gli faccio addormentare non voglio essere prolisto non voglio essere monotono perché poi io non sono non l'esperienza non sono un professore non ho l'esperienza di Raffaele io vi posso dare la mia esperienza di vita quindi la prima cosa ho fatto ho interpretato i prodotti di mio papà nel mondo nuovo ok la prima l'interpretazione cioè tradurre poi al secondo posto ho utilizzato questi nuovi strumenti Whatsapp sappiamo i miei amici mi mandano i video sexy sexy su Whatsapp voi donne penso che li scambiate le cose di moda magari invece no con Whatsapp potete fare i soldi potete fare i soldi quindi io ho capito ho preso che ho insapevolezza di questi strumenti quindi GoToMeeting è un altro programma che utilizzo per fare conferenze noi possiamo fare conferenze qua con GoToMeeting io lo uso col telefonino col tablet ogni pomeriggio diverse videoconferenze non mi sposto con Milano con Praga con Budapest con Tunisi faccio i webinar ieri ho fatto un webinar con Amazon non ieri l'altro giorno perché ieri l'ha fatto il mio collaboratore perché ieri avevo un impegno quindi con Amazon che mi ha spiegato praticamente come vendere perché l'altro strumento è Amazon tutti quanti mi chiedono tutti quanti mi vogliono 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 l'esperienza dice Raffaele lo sa quindi allora Amazon è uno strumento come tanti strumenti che molti si trovano da raccontare il discorso che dobbiamo cioè Amazon non è bello non è brutto io voglio vendere in Despar voglio vendere in I.O. voglio vendere in ProShop voglio vendere in Aushan poc'anzi l'amico Pier Giorgio mi ha mi ha presentato un amico che è in Aushan quindi Amazon è quello perché Amazon sapete che nei prossimi due anni aprirà 122 shop fisici automatizzati parlavo con il nostro amico che fa l'automazione quindi diciamo che Amazon con un altro strumento che ho qui vedete al quarto posto nella mia classifica ci sta anzi al terzo sta per comprare Amazon perché io sono cliente Amazon Prime quindi in un giorno ieri ho ordinato il regalo a mio nipote oggi è arrivato in azienda bravo bravo poi al quarto posto c'è venditore Amazon che si chiama seller central di Amazon quindi Amazon che tante persone dicono è complesso sì certo tutto è complesso nella vita è uno strumento praticamente che abbiamo tutti quanti a disposizione che ci permette di interfacciarci con tutto il mondo cioè io ora avendo quest'anno ho venduto 10 scatole a una clinica di Londra a gennaio poi si è interrotto perché la Brexit ha eliminato la possibilità di vendere senza partita IVA a Londra a Inghilterra ora Amazon per esempio ieri nella conferenza con cui ho partecipato mi ha proposto come azienda siccome stiamo crescendo di ci paga le spese per tutto quest'anno per aprire le partite IVA in tutti i loro depositi in maniera tale praticamente che i 7 8 9 mila euro di investimento lo pagheranno loro ce lo rimborseranno per quest'anno così proviamo a vendere diciamo in tutti perché Amazon ha diversi magazzini in tutto il mondo io mi interessa il mercato europeo per il momento perché poi negli Stati Uniti in America Giappone quant'altro inizierò prima finirò bene l'Europa dopodiché poi e pensate praticamente che ieri eravamo in classifica come primo venditore su un prodotto la soddisfazione arrivare a 10 mila euro al mese di fatturato io non ho fatto non ho detto cosa faccio produco materiale monouso mio papà produceva io ora richiamo accessori per il viaggio per il mondo degli animali e per il mondo professionale quindi sono 20 prodotti più o meno Raffaele poi mi dici quando devo smettere quando è il tempo dimmi tu dimmi tu ok e quindi praticamente il mio consiglio è quello di che si può fare business si può fare però dobbiamo stare non dobbiamo pensare dobbiamo essere negativi Raffaele giustamente ci dice sia i lati positivi no no non ho detto che Raffaele ci dice sia i lati tutti gli aspetti non ho detto che sia negativo non sono mie parole non mi mettono in bocca la parola che non sono mia Raffaele ci documenta di tutti i lati oscuri non oscuri strategici non strategici e io dico che bisogna essere positivi perché ho visto con i miei prodotti i nostri prodotti mio papà certamente mi ha lasciato un know-how io che faccio lo svendo lo butto no devo utilizzare il modo per fare business e Amazon è un modo per fare business molti dicono eh ma le spese sono tante perché sapete che se i bei si prende intorno 17-20% Amazon arriviamo al 45% pure però ci sono soluzioni alternative che Amazon vi propone e soprattutto Amazon non lo potete vedere come un business immediato cioè Amazon è un business anche successivo cioè ogni giorno io sono invaso da richieste che prima non ne avevo prima ne avevo una settimana una al mese no so solo che l'azienda supera il 30% di diciamo di 30% di turnover quest'anno quindi sta crescendo eh Amazon è uno strumento pubblicitario cioè dove trovate un canale 5 Italia 1 europeo dove lo trovate senza soldi perché voi anche se io non ci guadagno niente io ho messo tutti i miei prodotti in vendita in tutta Europa mi trovate un'altra azienda un'altra persona perché andai ora in banca a firmare un atto e mi chiese ah Luigi come va con Amazon è vero che non si guadagna niente non si può dire questo perché margine ci sta ci sono prodotti che come in un supermercato ci sono prodotti che devi svendere prodotti specchietto per la lotola front back off cioè c'è varie terminologie prodotti che magari in promozione speciali così Amazon lui ti aiuta poi la gestione è molto complicata non è molto semplice c'è abbastanza prego no Amazon ti aiuta allora io vi faccio vedere così vi rendete conto praticamente ora con il tablet il telefono se apro l'applicazione Amazon la prima cosa che potete vedere ve lo leggo io anzi giusto così per vedere 26% di aumento 7 giorni ti dice Amazon no no vi spiego è 439% annuale di aumento ok perché giustamente sto sempre crescendo quindi aumento quindi vi fa il grafico la prima cosa ok ora ci sono due tipologie di vendita su Amazon una è quella che si chiama venditore la cosiddetta venditore dove tu spedisci i pacchetti i pacchi e l'altra invece si chiama logistica di Amazon in italiano o FBO in inglese FBO FBI non mi ricordo come FBA in inglese americano cioè praticamente che tu affidi a loro la logistica quindi la consegna con il call center cioè fanno tutto loro cioè il cliente dipende dipende ci sono ci sono ci sono diversi livelli e poi perché praticamente vi spiego allora ovviamente tu devi spedire ci sono diversi hub in Europa saranno 30 hub 40 hub non lo so totale però in Italia per esempio ne abbiamo 3 o 4 di hub dove loro ricevono in materiale mi sa che l'ultimo hanno aperto a Roma se mi sbaglio devono aprire io spedisco io spedisco attualmente a Piacenza è più grosso dovrì che a volte lo fanno spedire in un altro magazzino anche dipende da loro in base ai volumi dei prodotti qual è il discorso? che se io immaginate che spedisco una scatola con 50 telefonini all'interno Amazon apre la scatola e spedisce un telefonino alla volta ok quindi io non è che posso spedire un accappatoio alla volta il margine mi si ridurrebbe a zero praticamente invece con questo sistema potete praticamente dare ci sono delle aziende che completamente hanno affidato la logistica ad Amazon nel caso mio io utilizzo i vecchi sistemi e i nuovi sistemi i vecchi sistemi che mi ha insegnato mio papà per andare direttamente a parlare con le grandi distribuzioni uno degli ultimi contratti che sto per fare è nel marchio relay degli aeroporti troverete i nostri prodotti nelle proprie dello Stato invece quindi per concludere quindi la logistica vi permette di far parte anche del progetto pan europeo lo chiamano loro praticamente e loro però devi essere possesso di partita IVA sul posto dove sto studiando perché lo sto iniziando cioè io attualmente ho i miei prodotti in vendita su oltre 30 nazioni però parte tutto dall'Italia sì bravissimo in Spagna ecco la domanda andiamo nel tecnico però non abbiamo troppo tempo allora Amazon mi ha fatto questa proposta quest'anno dici visto che tu vai bene ti pago tutto io le spese per un anno ti do queste tre aziende scegli qual è la migliore loro ti aprono le partite IVA dove tu vuoi o tutti i mercati perché poi dall'anno successivo te le paghi le spese bravi con Inghilterra in Spagna perché che succede in quella maniera praticamente i pallet vengono smistati direttamente sul posto qui nel magazzino di Monaco o nei vari magazzini di Monaco o della Germania non ti so rispondere su questo ancora il vantaggio penso che è anche un altro il vantaggio è che praticamente per esempio in Inghilterra me l'hanno chiuso il mercato io facevo 500 sterlini al mese fino a dicembre gennaio poi con la Brexit è chiuso praticamente Amazon ha fatto comunicazione non sapevano neanche loro bene perché ovviamente la macchina Amazon è grande ok non è che avete una persona come Raffaele che vi aiuta così al telefono quindi ma come io ho detto sì sei sacro ti fa mese uno sacro quindi sei donna ti sposavo dimmi questo anno 40.000 euro non è quello dimmi cosa vuoi sapere per così ti aiuto è alto è alto è alto non te lo so dire specialmente perché ho diverse poi anche tipologie di divisione io ti posso dire solo che la comunicazione come ho detto prima è la interpretare è la la prima cosa importante è diciamo è comunicare è essere presenti la primo posto Raffaele ha sempre detto nelle passate nelle passate diciamo edizioni a secondo posto io dico è essere presenti con questi nuovi strumenti ok io faccio comunicazione su Facebook su Instagram ieri ho dato dimostrazione al socio di Domenico Buffo perché ho acquistato concludo con questo Raffaele posso un esempio pratico ho acquistato subito un IBM e un Lenovo ThinkPad l'ultimo ok il top di Windows perché sono passato da Mac per problemi di programmi ho dovuto passare a Windows e siccome gli sistemi con Domenico e Mario sono un'azienda che è seria con cui mi fido ho fatto la trattativa con loro ma l'hanno fatta per me con Lenovo dove io mi servo su tutti i vari hardware e software ora il computer Mario mi ha detto dai facciamo una fotografia facciamo Mario la fotografia non serve più a niente io mi sono fatto un anno e mezzo di esperienza con i video ho preso 7-8 modelle con i nostri prodotti e abbiamo fatto comunicazione che vedete sui nostri siti web io l'ho fatto col mio grafico ho sistemato anche amatorialmente amatoriali ma hanno una resa ma veramente la fotografia non serve più a nulla e poi vi spiego anche perché a livello economico ieri praticamente mi ha chiesto di vedere ma il video possiamo fare mi ha fatto un video io presentavo questo copicci nuovo lui parlava e praticamente ha fatto due contratti nuovi stamattina perché mi hanno chiesto cioè se io metto i cagnolini se mi piace e basta invece questa comunicazione video mi ha permesso a persone che mi hanno conosciuto che mi ha taggato di chiamarmi e di mettermi in comunicazione con loro con lui diciamo con loro dell'azienda quindi perché serve video vi spiego voi fate comunicazione chi fa comunicazione fotografica fate perché diciamo la comunicazione fotografica la faccio con email con social ma perché è più efficace la comunicazione che i video innanzitutto perché c'è una una resa maggiore per spiegare il prodotto eppure la seconda cosa che pochi sanno possa Raffaele le persone come loro che fanno comunicazione lo sanno che mentre io ho stato uno dei primi a studiare Google AdWords quindi io spendevo tanti soldini ho preso anche risultati tanti anni fa 15 anni fa bravo e praticamente però la resa era grande perché un click costava 50 lire ora un click una sponsorizzazione costa 3-4 euro 5 euro per i miei prodotti e a volte non riesco neanche a uscire sulle prime pagine ok quindi ci vuole un SEO molto aggressivo mentre con i video con YouTube che comunque è sempre un canale AdWords mi costa 10 centesimi 20 centesimi lo spot che voi vedete quando vedete sul telefonino a uno strato da PC che vi esce la pubblicità però pochi lo sanno e pochi lo fanno lo fanno solo in multinazionale ancora mentre i social network Facebook Instagram e Google AdWords lo sanno tutti quanti lo fanno tutti quanti e si è sputtanato e quindi sapete che c'è tanta richiesta quindi il servizio cresce quindi questo è un piccolo trucchetto che vi consiglio con quel piccolo esempio pratico grazie per Luigi grazie per Luigi questo è anche uno dei motivi per cui bisogna stare attenti alla marginalità del prodotto perché più cose chiedi ad Amazon più il costo che devi dare che esternalizzi è alto più il tuo margine deve essere alto altrimenti si consuma allora ringraziamo quindi per Luigi e anche Antonio Di Michele della Creative Comunica Creative Company ce l'ho fatta e che adesso ci dà il suo contributo grazie buonasera a tutti allora ci troviamo proprio bene perché quando abbiamo questi case history di imprenditori che soprattutto investono molto nel digitale noi agenzie di comunicazione insomma è sempre più facile perché trovarsi a colloquare con degli imprenditori del genere viene tutto più spontaneo e viene anche in maniera un po' automatica è come se parlassimo lo stesso linguaggio allora noi infatti parleremo oggi di social media storytelling per aziende come un'occasione condivisa diventa un vantaggio d'impresa sicuramente tutti voi avete sentito parlare di social media che cosa si fa chi lo fa all'interno dell'azienda chi lo fa personalmente chi lo fa con dei professionisti chi lo fa con il cugino chi lo fa con lo zio il nipote insomma un po' tutti quanti abbiamo sentito parlare di questo avrete sentito anche parlare sicuramente di storytelling che sono legati al discorso un po' dei video che faceva il vostro collega noi siamo Comunica siamo un'agenzia di comunicazione a 360 gradi di Manfredonia siamo dal punto di vista diciamo così amministrativo fiscale un'agenzia molto giovane però come background abbiamo 15 anni alle spalle un po' per tutte le nostre esperienze la mia e delle mie due socie veniamo tutti e tre dal mondo della comunicazione del marketing ma soprattutto della formazione perché della formazione perché noi ci occupiamo anche di questo all'interno delle aziende andiamo dalle aziende laddove l'azienda non ha bisogno di delle strutture esterne come la nostra che li vanno a curare e a creare la comunicazione a 360 gradi andiamo dentro le aziende facciamo dei corsi delle consulenze di modo che chiaramente l'azienda stia un po' più tranquilla o comunque non può in qualche caso avere una struttura esterna per la comunicazione allora iniziamo a fare un po' la fotografia di alcuni dati perché le statistiche sono sempre importanti per capire un po' di che cosa vogliamo parlare quindi le statistiche relative a quest'anno in corso mostrano una diffusione dei social network che chiaramente non si arresta anche per il numero degli utenti Facebook in Italia per quelli Twitter soprattutto su Instagram che sta iniziando a crescere molto e appunto non si arresta nonostante gli scandali che sono successi in casa Zuckerberg di cui insomma sapete tutti quanti il numero delle persone che in tutto il mondo utilizzano i social è cresciuto di oltre 100 milioni nei primi tre mesi del 2018 siamo al novembre quindi è sempre una crescita esponenziale raggiungendo i 3,3 miliardi entro la fine di marzo del 2018 anche in Italia c'è stato un incremento del 13% con 34 milioni di utenti una percentuale del 57% che cosa significa che il 57% della popolazione italiana di 59,55 milioni di abitanti è attivamente presente sui social questo insomma lo sappiamo perché lo viviamo giornalmente sulla nostra pelle questa diciamo che è la classifica dei social media più utilizzati in Italia YouTube utilizzato dal 63% quindi siamo tutti un po' papà mamma sappiamo anche benissimo i nostri figli come sono attaccati sullo smartphone e sono sempre alla ricerca dei video ma anche noi stessi siamo sempre sintonizzati su questo canale Facebook il 60% Whatsapp il 59% Facebook Messenger il 39% Instagram il 33% Google Plus 25% Twitter e poi tutti gli altri da Skype LinkedIn Pinterest Snapchat e Tumblr ok questa è la piattaforma di cui parlava prima non ricordo il nome Pierluigi HotSuite questi sono dati presi appunto da quella piattaforma relativi al 2018 quindi fa chiaramente fa riferimento alla è un'analisi degli utenti di Facebook per dispositivo e genere perché chiaramente c'è chi si connette dal desktop oppure dal mobile quindi in Italia il numero totale di utenti è 34 milioni di persone al mese stiamo parlando di cifre mensili il cambiamento annuale quindi rispetto al 2017 è del 10% la percentuale degli utenti Facebook che vi accedono via mobile è dell'88% questa è la differenza le percentuali di profili Facebook che sono dichiarati come donne del 48% dichiarati come maschili è del 52% quindi come vediamo su Facebook è leggermente maggiore la percentuale dei maschi questa anche diciamo una statistica su Facebook divisa per fasce di età vediamo dai 13 ai 17 anni dal 24 dal 2 al 2% 18 24 8 9% e via discorrendo quindi gli utenti Facebook in Italia 34 milioni e sono molto attivi soprattutto sui video che è il tipo di contenuto che raccoglie maggiore engagement a questo dobbiamo aggiungerci che oltre ai video contano molto anche su Facebook le dirette che vengono fatte sulle pagine Facebook che hanno una percentuale più alta rispetto a degli altri video questo invece è un'analisi sugli utenti Instagram sempre sulla stessa piattaforma Hotsuite quindi gli utenti Instagram in Italia sono 16 milioni nel 2018 e rappresenta il 27% della popolazione qui a differenza di Facebook il 51% sono donne e il 49% sono maschi che cosa significa? significa che appunto Instagram sembra destinato a diventare il prossimo membro di quel club di miliardi di persone come Facebook infatti è in continua crescita e noi lo stiamo notando come agenzia di comunicazione di web marketing anche rispetto alla richiesta che i clienti stessi ci fanno perché oltre al profilo insomma Facebook o qualcuno ci chiede di gestire anche LinkedIn spesse volte anzi più delle volte ci viene chiesto di gestire anche la loro pagina su Instagram proprio perché questa modo delle fotografie adesso anche i video su Instagram le stories che sono molto molto richieste c'è una crescita veramente esponenziale di Instagram interessante anche vedere la base di utenti di Instagram che è appunto prevalentemente femminile e anche le fasce di età dai 18 ai 26 quindi oppure dai 25 ai 34 anni quindi delle fasce di età molto ma molto giovanili vabbè queste sono sempre le crescite esponenziali per quanto riguarda il numero di utenti di internet che chiaramente è in continua scesa in tutto il mondo perché questa fotografia abbiamo voluto fare questa fotografia perché appunto l'importanza del digitale al giorno d'oggi e dei numeri soprattutto che si vanno ad incontrare si va incontro perché è un'azienda a che cosa va incontro rispetto ai numeri chiaramente noi come agenzia di comunicazione e di web marketing non crediamo più nel porta a porta ma appunto ci dobbiamo affidare a dei nuovi strumenti perché perché il contesto sociale in cui viviamo sappiamo che è completamente cambiato quello che interessa alla persona è la quotidianità gli interessi le abitudini e le preferenze in questo senso sono appunto i consumatori che vanno a cercare la marca l'azienda il brand non è più come prima la comunicazione o il marketing di vecchio stampo dove si doveva vendere per forza un po' a tutti quanti adesso il consumatore va a scegliere il proprio brand e come lo fa? Lo fa soprattutto e maggiormente in rete quindi attraverso i motori di ricerca il content marketing quindi attraverso i contenuti del marketing il social media marketing la SEO il paper click l'IoT l'Internet of Things insomma chiaramente preferendo un acquisto il più virtuale possibile però si deve avvicinare alla propria esperienza c'è ciò in cui il consumatore stesso crede di voler avere dal proprio dal proprio marchio chiaramente ad un'azienda anche noi facciamo non facciamo proprio il modello canvas come come è stato descritto prima però anche noi andiamo a fare un briefing delle domande un questionario dove il cliente ci deve dare le risposte soprattutto quelle insomma principali quindi le caratteristiche della sua impresa la sua storia che per noi è molto importante anche perché lo vedremo tra un po' con lo storytelling il mercato di riferimento e i dati del targeting raccolti questo è un altro elemento essenziale perché i dati ad oggi sono tutto se avete i vostri database email cellulari tutto ciò che il cliente lo potete profilare è una cosa fondamentale perché avendo i dati in azienda potete arrivare dal potenziale cliente quindi il consumatore in parecchi modi vediamo un po' di numeri quindi le aziende preferiscono attualmente i social media più noti facebook dal 96% delle imprese twitter dall'89% linkedin dal 70% instagram dallo stesso 70% delle imprese sapete dire la differenza tra profilo personale e pagina ufficiale Pierluigi vuoi rispondere tu no non devi immaginare devi essere sicuro e io quella volevo e portaci la tua testimonianza perfetto allora sì certo non può essere giusta un profilo personale per carattere personale perde il controllo di azione perde il carattere di diciamo la cittadina e quindi tu hai perso tutta la pagina di auto ok quante aziende ci sono in sala tutte le pagine ufficiali avete o c'è qualche azienda che ha ancora il profilo e dice di avere la pagina mi è capitato proprio ieri guarda che bella pagina ho aperto dove sta la pagina no ma guarda questa allora in effetti è questa la differenza tra l'account privato e la fanpage quindi la pagina ufficiale dell'azienda chiaramente la gestione sull'account privato di una persona la fanpage può essere amministrata da più amministratori il numero di utenti sull'account privato sappiamo che è massimo 5.000 dopodiché ti arriva il messaggino che non puoi più chiedere amicizia la fanpage sono limitati con l'account privato il pubblico è a caso è chiaro mentre con la fanpage possiamo andare a targhettizzare grazie agli strumenti di facebook tutto il pubblico che vogliamo raggiungere per quanto riguarda la privacy gli amici non sono tutelati qui i fan cioè quelli che vanno a mettere il like sulla pagina invece sono tutelati quindi tutto ciò che riguarda poi la pubblicità di facebook non li possiamo fare con l'account privato con la fanpage si l'indicizzazione insomma capite bene come per un'azienda sia fondamentale avere una pagina scusate se lo dico perché chiaramente ma lo dobbiamo dire perché c'è ancora qualcuno che fa confusione su questo però vediamo adesso che cosa ne sarà tra qualche anno dei social media più usati cioè a che cosa stiamo andando incontro rispetto ai dati attuali chiaramente instagram come dicevo prima è quello che sta andando a coinvolgere di più il pubblico e quindi chiaramente tra i video le stories o soprattutto le dirette dove se dovessimo fare una classifica rispetto ai video viene prima la diretta e poi i video perché danno il cosiddetto più engagement cioè riescono ad ingaggiare di più i potenziali clienti comunque fruitori finali rispetto al al prodotto che si che si vuole vendere e quindi dei contenuti sempre più coinvolgenti adesso vi facciamo vedere che esistono i nostri clienti questo è Bacco e Tabacco e Venere un ristorante che ha una quindicina d'anni di storia nel borgo antico di Manfredonia e praticamente era uno di quegli imprenditori a cui la comunicazione sì non lo so vediamo però non ci credeva non ci credeva tanto ma soprattutto lui andava sempre con il passaparola oppure con i metodi tradizionali proprio per la sua posizione nel borgo antico di Manfredonia nel centro storico a due passi dal mare insomma abbiamo iniziato con lui una sorta non di collaborazione ma anche di consulente ma proprio di gestione totale della pagina anche perché siamo stati fortunati dall'altro punto di vista dove lui si è affidato e si è fidato completamente ha detto fate voi non ho il tempo non ho le risorse quindi abbiamo dovuto costruire tutto dall'inizio mettere mano alla pagina e dargli un senso questo chiaramente è stato fatto con un lavoro fatto prima di studio perché non è che andiamo firmiamo con il cliente vabbè partiamo no andiamo a vedere un po' insomma i suoi competitor come è posizionato e altre cose da questo non ci limitiamo soltanto a postare dei semplici piatti o delle figure del ristorante o dei suoi prodotti del vino delle cantine ma abbiamo messo insieme abbiamo messo giù una campagna di marketing territoriale di l'abbiamo chiamata chiaramente un viaggio tra saperi e sapori cioè abbiamo unito i suoi piatti le specialità del suo ristorante e quindi del territorio insieme ai monumenti più insomma importanti di Manfredonia il castello l'opera di Tre Soldi a Siponto la nuova installazione che è tanto successo ha avuto e quindi qui c'è stato un mix tra chiaramente non una gestione normale di una pagina di un ristorante di food ecco un mix anche dovuto al discorso di un marketing territoriale di promozione del territorio stesso altri due monumenti importanti di Manfredonia il campanile e il faro del molo di Levante quindi abbiamo scelto delle location molto ma molto suggestive in che senso adesso ci arriviamo con uno dei nostri clienti quindi questo è un esempio dove non c'è la solita ma classica comunicazione del ristorante siamo andati oltre la stessa cosa con il Lupus che è un locale qui di Lucera anche questo è un locale storico di Lucera perché praticamente arriva da una storia di apertura di vari locali qui abbiamo trovato anche qui un imprenditore tra virgolette illuminato dove ha deciso di puntare solo su un brand Lupus quindi ha detto dobbiamo puntare su questo mi voglio affidare e fidare a un'agenzia perché non ho il tempo e soprattutto voglio crescere un po' di più con la presenza sui social abbiamo messo giù una campagna le facce da Lupus qui i protagonisti sono gli stessi lui è il proprietario Alessandro questa è la sua compagna e questa è la cuoca è una cameriera cioè stiamo facendo una campagna settimanalmente dove facciamo conoscere ci sono delle facce dietro a questo locale storico delle facce ognuna che va a raccontare la propria storia quindi questo rimbalzo tra la storia del locale che si vuole raccontare attraverso non solo i propri piatti perché chiaramente i post che andiamo a fare durante la settimana possono essere tre o quattro quindi in un giorno dedicato alla settimana postiamo le facce da Lupus in un altro giorno posteremo la pizza in un altro giorno posteremo il vino insomma le specialità un modo di raccontare il locale che è anche diverso e questo lo facciamo attraverso i canali social lo facciamo attraverso Facebook Instagram e attraverso le dirette Facebook che il locale fa quando ci sono gli eventi live questo è un altro cliente di nostro di Manfredonia Libergolis Penomatici che è presente anche qui oggi dove lui è un'azienda storica di Manfredonia è storica perché è una storia di famiglia la sua come te il papà faceva lo stesso lavoro che fa lui adesso ha ereditato l'azienda come te lui ha investito molto sul digitale come te lui ha un e-commerce tu non stai su Amazon ci sta perfetto quindi su questo ci siamo trovati con Franco attraverso il discorso del rimando tra il suo sito internet quindi un sito e-commerce e la gestione dei profili social quindi pagina Facebook e Instagram con il cosiddetto social commerce ho guardato la mia socia per avere l'assenso il social commerce è il rimando tra il sito suo che chiaramente fa molto e-commerce durante il mese anche di fronte a dei colossi un po' diciamo nazionali però rimandati sulla pagina Facebook e quindi sulla pubblicazione e devo avere che stiamo avendo degli ottimi risultati perché la conversione quindi sulla pagina Facebook atterrano parecchie richieste rispetto a quello che comunque viene pubblicizzato sul suo sito e-commerce che cosa abbiamo fatto un giorno? io sono anche il suo cliente sono andato disperato perché una mattina prendo la mia automobile guardo la gomma così e trovo una bolla grandissima vado a Franco Franco mi dai un'occhiata che è successo la bolla? me l'ha spiegato in 30 secondi me l'ha spiegato così bene ho detto tu da domani fai video ok abbiamo fatto i video ci siamo messi abbiamo lanciato la rubrica a ruota libera dove lui si sta divertendo un mondo anzi ogni settimana lo dobbiamo frenare perché chiaramente noi non siamo dei videomakers però con i potenti strumenti iphone della mia social andiamo lì lei fa le riprese io faccio il regista insomma facciamo un po' di sketch di queste cose qua però lui noi facciamo tutto sì sì lo facciamo sempre di fretta però allora lui in questa in questa rubrica ma non solo perché fa le dirette facebook allora il video guardate questo video che è stato postato quando franco una settimana fa ok 2003 0 2003 persone raggiunte 320 interazioni visualizzato da 561 persone eh tutta organica senza investimento assolutamente niente 0 no ma questo per dare conferma a te che i video sono una bomba sono una potenza infatti adesso ne parleremo ma soprattutto poi anche quando lui fa le dirette quindi è un mese e mezzo che sembra sembra un bambino di quelli che lo devi tenere a freno perché si diverte un mondo ma siccome lui ripeto è esperto lo fa da quando era bambino questo lavoro c'è nato c'è cresciuto quindi gli viene gli viene anche bene è la sua storia perché non raccontarla perché non raccontarla e proprio per questo ecco qui ci troviamo ok questo ci permette di agganciarci al discorso adesso dello storytelling chissà che cosa significa storytelling qua non alza nessuno la mano ok allora deriva da due parole inglesi story e telling e quindi quella tecnica di comunicazione che consiste nel raccontare una storia per attirare l'attenzione di un pubblico e stimolare uno specifico desiderio ok quindi un racconto vero e proprio siamo partiti chi lo faceva in qualche decennio fa Carosello giusto diciamo una prima tecnica di storytelling lo storytelling però lo possiamo fare attraverso i video e adesso tra un po' vedremo come e in che modo ma anche attraverso le immagini e quindi chiaramente raccontare la storia di questo ragazzo scapestrato che è diventato l'uri campione del mondo parecchie volte attraverso anche le immagini quindi vedete bene la polvere sul suo viso il ragazzo che vince sempre il ragazzo d'oro però che cade poi si rialza e quindi questo rimando sempre di raccontarsi una storia chiaramente una narrazione che deve andare su tutti i canali social anche la NASA fa storytelling quando ci fa vedere queste immagini ci racconta il viaggio ci fa vedere come l'astronauta la sua vita addirittura qui fa un richiamo anche al signore degli anelli quindi anche la NASA giornalmente i grossi brand fanno comunicazione attraverso lo storytelling hanno fatto il video in 4K eh sì nella stazione spaziale passiamo quindi immaginate quanti milioni di euro per un video che significa che tutto ormai il futuro andrà al video è quello e infatti la tendenza è quella lì anche perché noi yogurt come lo raccontiamo sto yogurt la cosa bianca come la raccontiamo la raccontiamo si può raccontare con delle storie diverse in vari modi quindi anche rispetto ai vari brand noi uomo quindi natura bontà e gusto questo è sul naturale quest'altro il Müller fa l'amore con il sapore quindi anche con dei prodotti semplici la storia la narrazione è quella che conta le questioni rilevanti di uno storytelling adesso non so ma non abbiamo il tempo di approfondire la storia importante è quella degli altri nella tua ok nella tua storia devi trovare quello che è importante per gli altri il racconto si basa sulle difficoltà abbiamo visto Valentino Rossi le difficoltà il ragazzo cade si rialza pluricampione del mondo le difficoltà nello spazio però viene raccontata una storia se racconti lo devi fare su più piattaforme quindi una story experience lo storytelling è bello per questo motivo tutti quanti raccontano una storia Giovanni Rana l'ha iniziato a raccontare forse è stato uno dei primi a fare come azienda lo storytelling in Italia dove si raccontava lui personalmente che cosa faceva e ci mette ancora la faccia perché la sua è una storia importante come altre qui ci mettono la faccia gli artigiani cioè tutti i giorni ce li troviamo in televisione che adesso ci fanno il divano così corri in negozio ci fanno sentire in colpa che non andiamo in negozio però raccontano fanno capire dietro a poltrone e sofà che ci sono delle persone degli artigiani veri questi non sono attori non sono comparse sono loro che raccontano della propria azienda il messaggio qual è sullo storytelling è a noi ci piace dirla così se la tua azienda ha una storia una storia un qualcosa la devi raccontare è una storia che merita e che va raccontata chiaramente anche tu nel tuo caso tuo papà il lavoro che facevi sarebbe bello mettere giù uno storytelling fatto come si deve perfetto quindi è una tecnica che attualmente proprio perché viene fatta con i video arriva direttamente al consumatore finale adesso voglio far vedere due tipologie di storytelling uno storytelling dove c'è una voce narrante esterna che però parla dell'azienda ok è come se in effetti adesso l'azienda viene vista dall'alto e quindi racconta l'azienda la sua crescita e dove è arrivata e poi vedremo un altro esempio di storytelling questo il volume è alzato vediamo play no 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 è dentro la slide sì sì forse da qui vediamo anche dovreste vedere dovreste vedere come è dovreste vedere il mouse fa in ricondizionale allora provate ad uscire vedi sta nella cartella comunque esci sta nella cartella vedi è l'ube l'ube sì spot la l'ube sì 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 il sogno il sogno è un sogno di un sogno di un sogno eppure quando partiamo dai 50 anni appena passati ci sembra di aver discusso il più del sogno che potessimo immaginare ma il nostro non è un sogno fatto di immaginazione ma dei sogni non avversi della concretezza del duro lavoro che si mostre mai e della testa che abbiamo sempre visto in dettare nella verità non è un'ambiente io seguo tutte le sue spese partire da un piccolo burco per animare in tutto il mondo per il cuore delle nostre persone la lube prova con il sudetto e poi questi 50 anni passati insieme sono stati come un sogno ma è bello spesearsi ogni giorno e vedete che ho trasformato in una meravigliosa realtà conoscete tutti la lube quindi un'azienda artigianale che negli anni chiaramente da un piccolo borgo è diventata adesso una grossa realtà nazionale ed europea e quindi viene raccontata in questo modo da una voce narrante però all'interno del racconto fa riferimento a tutti quei valori che hanno fatto sì per far crescere questa azienda e avete visto nell'ultima ripresa fatta dall'alto con un drone che cosa è diventata mantiene la sua artigianità i suoi valori la propria passione però viene raccontata dall'esterno facendo vedere comunque tutte le figure reali ed esistenti dell'azienda stessa vediamo l'altro video questo qui Moreschi questo Moreschi sì sì vai sulla cartella sì Moreschi story prima sopra a destra ok mi ricordo più che altro mi appunta a mio padre i suoi renditi e i suoi insegnamenti soprattutto quando mi dice che si fa presto a trasformare i soldi in scarpe ma trasformare i soldi in soldi un po' più difficile e quindi che non sono che non sono mi dice il Gisela era la capitale della calzatura e mi hanno prodotti praticamente interesse dalla posizione nazionale di una fatta di gira poi in Gisela sono arrivati i metà meccanici per quanto riguarda la fila della calzatura ovvero più per macchine legate alla posizione della calciatura e quindi è un risultato molto importante per questo tipo di attività. Tanto è vero che noi facciamo un po' la show, ma per queste aziende merceniche il 80% di macchinari che viviamo sono politiche di zero. Tanto è vero che noi facciamo un po' la show. La show nasce sempre dalla vita, poi il computer viene dopo, per cui la cosa principale è la testa e la mano. Allora, guardate com'è importante il discorso di sapersi raccontare e raccontare la propria azienda. Che cosa vi vogliamo dire? Ciascuno deve trovare la propria poetica perché le marche non vengono più comprate ma scelte, quindi un'azienda merita di essere raccontata. E lo storytelling è lo strumento ideale per poter fare questo. Sono tutti video, poi decidete di fare uno storytelling con le immagini, va benissimo lo stesso, però se avete una storia, 40, 50 anni, 30 anni, raccontatela perché è bellissimo, vi darà delle soddisfazioni veramente impensabili. Questi siamo noi, se vi va metteteci un like sulla nostra pagina, una pagina è la nostra pagina, un like. Grazie per la vostra attenzione. Allora, io volevo solo chiudere innanzitutto ringraziando loro che ci hanno dato un contributo di esperienza professionale che mi sembra possiamo portare a casa come uno dei valori, penso, di questa giornata. Poi permettetemi di ringraziare in particolare Pierluigi, perché non è facile prestarsi ad essere un caso da cui partire per poter riflettere insieme. Tra l'altro gliel'ho chiesto personalmente quando lui mi raccontava di quello che stava facendo, non tanto perché uno, come dire, ha l'esperienza perfetta da indicare, ma più che altro perché è uno stimolo per riflettere insieme. Quindi lo ringrazio ancora e chiaramente ringrazio tutti voi. Io penso che questa giornata sia stata comunque, credo, positiva, perché qualcosa di positivo appunto possiamo portare a casa e magari domani mattina per chi lavora anche il sabato, vedo Franco che sorride, forse è uno di quelli. O lunedì per chi appunto invece si prende il fine settimana di meritato riposo, possiamo ripartire, come dire, appunto da qualcosa che ci dà anche una motivazione in più per essere nelle nostre aziende. Avremo nel corso appunto dei prossimi mesi ulteriori appuntamenti per vederci. Capisco che è faticoso, diciamo così, decidere di prendersi una giornata o qualche ora e dedicarsi a momenti di questo tipo. Però credo che l'apertura mentale e in qualche modo la soddisfazione che questo ci dà valga, come dire, la pena appunto per prendere questa decisione. Grazie a tutti e buon fine settimana.